Oh quanto è bello! Vai Pino! Dai buttati! Buttatiotti! Così allora? Si, brava, brava, così! Ehi, come è giocato! E va lungo qua? Va lungo? C'è la salita! C'è la salita! Ok ho visto! Alto e lungo! E' difficile che si ferma lì! Brava! Eh si, non va giù! Dovete stare qui! Devo stare qua! Capito? Non voglio la verde però eh! Troppo lunga! Va giù Pasquale! Eh vanno giù di lì Pasquale! C'è la discesa! Devi stare di qua! Se no di lì vanno giù! Ma poi vediamo noi! Come avete cambiato così? Eh mi ha detto di cambiare! Lo so io eh! Vedi? Oh bravo! Dai vedi! E Pasquale è forte! Va via di là che quello ti ammazza quello lì! Oh assassino! Bravo! Oh orca! Saltato ancora! Salta lì vai! No è perché! Dai! Si togliamo quella lì! Bisogna bocciare! Le graffine! No! Si vuole! E' che è il latte più che è la piazzetta! No qua c'è un altro scorso! Ah questo? Ah questo? Ah questo? E' solo che... Cosa c'è dentro il frigo? Fa vedere! Vai di vedere dentro il frigo! Fa vedere il frigo! Ehi! Pino! Peppino! Fai vedere dentro il frigo! No mica! Eh mica! Bottiglie! Bottiglie! Tieni la coperta! 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 Stai! Stai! Ma la bottiglia è tirata però quella del vino! Tanta che lì! Eh no! Il vino caldo non venga bene! Matteo lì che ora non fredde il mezzo! E' il tuo! A meno 7 gradi! 12! Era già salato del frigo! Stai che avevamo vinto! Ti va bene perché ti va bene perché non ho la rosaria! No! Vado a vedere se trovo il leppolino! Perché si arrivava la... Si arrivava la rosaria! E' sempre quello! Si arrivava la rosaria! Cosa? Lui sa che aveva vinto! Eh ma loro non le hanno fatte! Si! Va bene! Noi ce l'abbiamo! Dico molto molto! Noi ce l'abbiamo! Cosa è che abbiamo? Che abbiamo! Che abbiamo! Abbiamo salame? Il profittorale! Lei mi ha detto no! Ma che non c'è lì? Questa è il salame di cioccolato! Va bene! Cioè vuoi fare il cambio di voglia! Mi dispiace che hai buccato! Cosa? Mi hai buccato la... Chi è che ha portato la musica? Ah! All'aria l'ho tirato fuori! No no! Per me il profittorale era... Angela! Mi l'abbiamo fatto portare! Che cosa? Il profittorale! No no! Ma no! Ma certo! Questo qua avevo fatto il salame di cioccolato! E i dolciati di cioccolato! Forse è meglio! Il pistola del foco che arriva sempre in grado di sì! Dopo sai che c'è tutto lo scambio! Lo scambio! Eh lo so! Il pistola del foco! Eh lo so! Il pistola del foco! C'era tutto girato con il cegnino a fresco perché... Questa fila c'è tutto! Allora facciamo una donna e due uomini! 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 Prima e dopo deve capitare! Eh! Ci sono quattro uomini e due dati! Dove arrivi? Dove tu arrivi? Dal letto! Mi sono fatto la benzina! Mi sono arrivato proprio mentre sono arrivati tutte le moto! È quello che sei arrivato tanto! Un casino! Ma dai! Sei arrivato? Sì sì! Abbiamo raccogliato le incinieci per tutti eh! Abbiamo raccogliato le incinieci per tutti eh! Sì! Non sono le foglie però! Ma dai! Non ce n'era! Non ce n'era! Non ce n'era! Non ce n'era! Eh ma poi vedi che sono finta! No! No! Erano tutte malate! Le piante tutte ammalate! Ma poi... Ha vinto! Eccoci qua! Ci vedi eh! Guarda! Siamo qui! C'è sì la rossa! Ce ne sono poche! Eh dai! Guarda! Guarda dentro! Oh! Le noci! Per fare il noccino! Le noci! Le noci per fare il noccino! Le noci per fare il noccino! Ah le noci lei! Ma dai! Ma no! Ma ci si riesca di buttare! No guarda qua! Senti che mettiamo tutte insieme! Eh? Eh? Ma se le mettiamo tutte insieme! Ehm! Ehm! Fa vedere che pangla vuole! Ehm! Ehm! Quello che c'era! Quello che c'era! No bro! Queste sono raccolta ciliegie! Sono marcia! Sono marcia! Sono marcia! Due! A te per la secca! Ecco io mangio con la secca! Grazie! E io con la buona! Grazie! Oh mamma mi raccomando eh! Ecco qua! Damatana stava mica venenosa! Ma guarda che belle! Eh ma come fai? Non c'era! Ma le secche? No! 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 Le metto con l'alcol, il vino, gli odori per 30 giorni! Poi si passa tutto! Ma non lo sapevo! Sono accostato! Ma dove c'è? A me stanno a giocare a borgio! Ma che ti dice a fare il filo? Ma va bene! E' fina! Com'è che si chiama? Ma non lo sapevo! Ma non lo sapevo! Ma è fuori a destra! Ma non lo sapevo? Ma non lo sapevo! Ma mi stanno a giocare a borgio! Amabile! Cosa mi racconti? Com'è la mattinata? La fame c'è? Anche il bagno? Stop! Devo fare qualcosa o quando lascia andare si stoppa da sola? Adesso schiacci il tasto... No, sta registrando ancora, se non schiacci il tasto di stop... E non me l'hai detto! E' il Giordano! E' il Giordano! E' il Giordano! E' il Giordano! Fai un bel sorriso! Eccolo Carlo, è arrivato il carro! Pasquale con la salsiccia? C'è qualcun'altro che non ha parlato stacco! Come è la carne? Buonissima! Carlo, complimenti! Cotta giusta! Ma cerca di portare cunili! Carlo! Carlo! Complimenti! La carne era giusta! Carlo! Cerca di portare cunili! Sì! E' la carne! Cacchio! Anche l'osso ti mangi! Pasquale! E' l'unica roba che c'è rimasta! E' la parte migliore? Ce la mette la salsiccia? E' la parte più buona! E' il pane toscano, ti da la forza! c'è la rossella! E' il suo vinca lì! E' il suo De Langele! E' il suo di De Langele! E' il Pino! Ave! E' il Pino! E' il popolo! E' il capezzolo De Langele! E' il popolo chiede 6 terzi! Dò le posso mettere? Qua sul frigo l'e metto? se le volete cosa cosa e cacchi io ho ancora assaggiato la salciccia ah dove sei tu e la vicino a daniela sono cotte sono cotte ma quanto è buono il vino si buttane una no ma giù come niente ma beveva niente l'acqua pino hai portato il pom grande tavolata cazzo però manco sempre io nelle riprese ma prendimi cazzo ma che sta già andando ma prendimi ce le mani un te si vede un cazzo non prendo gli altri non c'ho preso io ah benissimo non prendo gli altri non c'ho preso io no no ma tanto per lei dove è la madonna vittata qua buongiorno si mischialo perchè è andato sotto questo è un tavolo aristocratico questo qua non si mangia qua si mangia tiralo eh a leonello e il popolo chiede se stersi chi vuole la frittata con dentro la pancetta e cosa cacchio è buona qua chi che la vuole chi l'ha fatta io non voglio sapere il nome e cognome e chi l'ha fatta no nel senso chi è che l'ha fatta io non ho fatto va bene ragazzi buon appetito ciao ciao e ricordatevi che l'acqua fa male il vino fa cantare e dopo facciamo la prova con il tambor vuoi dire che stai già facendo la prova del vino da cantare da cantare a carlo ci troviamo il buccolo di Dio e facciamo questa trigliata mega e mio fratello ha fatto salsa di bucchi ecco quello è il buccone del prete questo buon appetito a tutti ragazzi grazie è stato proprio una cosa e tutti gli anni ormai ci sono noi è nata perché eravamo stupidi perché i matrimoni uno non ha mai tento sono i rari arrivano più in base alla pietra che prende perché la pietra la prende e poi le abbina lei proprio come suo gusto personale ecco amabile stai così no non girarti ciao Doriano ciao Doriano ci manchi c'è qualcosa per te e per tua moglie no su vieni a pescare con noi ci vieni Doriano c'è il croccante c'è il croccante c'è il croccante Doriano l'acqua fa male il vino fa cantare ma lei conviene farle e poi non ci può ammigare così ma adesso la faccio non c'è mamma sono raggi che poi non viaggia però ecco lei è il croccante però poi è lei che associa le perle in base alla forma della pietra al colore della pietra sceglie il resto Nadella che parla così non ha che vuole il croccante finora finora Nadella non capito andiamo a fare niente io non vedo niente io non vedo niente ma non ti ho permettere dei permuta guarda mi sono sentito un vero buone io non vedo niente grazie 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 che nervosa ma cos'è che è messo ma glielo cazzo di andare a dire eeeh 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 ooooh eeeh è ancora vestito ma per piacere per piacere si è pisciato è il caglion guarda che fate bastanti è tutto registrato guarda mi avete pisciato sulla gamba è tutto registrato guarda guarda che bella paga sono comodi i pantaloni? sono comodi i pantaloni? sono comodi i pantaloni? dai che devo cambiarmi anch'io c'è nessun altro che deve cambiarsi c'è nessun altro che deve cambiarsi? metti il collo aspetta Pasquale ferma 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 giusama non arriva non arriva è un po' stretto ti sono stretto ti sono stretto questi si perché prima vabbè la cegna anche le quattro dita qua che c'è? un ramo capullo dicono che la circonferenza è la dita uguale a quella del mio sì la circonferenza è di disomettà però vabbè vero Beppino va bene va bene è giusto è giusto è vero non ci connessi proviamo? ma anche i doni? Daniera Daniera proviamo e allora la cosa cosa fa? ma le donne? Tardo! Tardo! l'ultimo taglio ancora la storia dei pantaloni con il mio collo ancora la storia del pantaloni mette la bibbia pure ma io con la cintura non lo so però con il pantaloni c'è che è un bel collo però prova con la bella circonferenza prova sul mio collo quella circonferenza è sempre sul mio collo sul mio pantaloni e dove schiava? ma va via e spazziccherà vieni che filmate la tele perché la c'è la guada cos'è che c'è su? cos'è che c'è su? cappella coppia io c'ho il video c'è il video dopo? è un video pratica le date bene la scima della primaca del pino è buona? è buona la vacca della lumaca cos'è? è buona le dulce le dulce è buona perché guardano tutti di là? forza le mutantine camminate ma dai abbiate il coraggio e noi leggiamo le immagini allora non la mettere su costume che sono senza mutande aspetta che bel caffè dai 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 guarda Martina qui fanno le tipi che avete le idee un po' brezza ma lo so ci hanno dato i lati della lumaca guarda Pasquale guarda Pasquale guarda Pasquale guarda Pasquale forza sto bevendo il caffè e leggiamo faccio ciao buona non esagerare però allora ma guarda guarda questi maschietti guarda e come si guarda guarda Giuliano il tuffo vanitoso il caffè ci sono levuti il cervello cominciamo con Pasquale vai vai la 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti